Cos'è l'Agenzia per gli Standard Alimentari? La Food Standards Agency è un'agenzia per la sicurezza alimentare che stabilisce e applica le politiche nel Regno Unito. Funziona per mantenere la fornitura di cibo sicura e sollecita commenti pubblici su una varietà di argomenti. Il Governo ha creato questa agenzia nel 2000 in risposta alle preoccupazioni sulla sicurezza alimentare da parte dei cittadini. Ha uffici in diverse città chiave del Regno Unito per assicurarsi che raggiunga la popolazione in modo efficace, e utilizza anche un sito web per comunicare con il pubblico. I funzionari della Food Standards Agency lavorano su argomenti come ricerca, test di sicurezza, igiene e etichettatura degli alimenti. Nella ricerca, l'Agenzia per gli Standard Alimentari studia argomenti come nutrizione, tecniche agricole e nuovi metodi di igiene. L'Agenzia può applicare queste informazioni a nuove sentenze di sicurezza nell'interesse di tenere al sicuro i membri del pubblico quando consumano cibo, sia al ristorante che al supermercato. I test di sicurezza sono importanti per nuovi alimenti e organismi geneticamente modificati. I nuovi prodotti alimentari sono prodotti che non hanno una lunga storia di utilizzo e quindi potrebbero avere problemi di sicurezza non identificati. L'Agenzia per gli Standard Alimentari utilizza strutture di ricerca per testare gli alimenti prima di approvarli per la vendita nel Regno Unito e può richiedere modifiche alle formule necessarie per rendere i cibi più sicuri per i consumatori. Prende inoltre in considerazione i contributi dei membri del pubblico con preoccupazioni, nonché la documentazione di analisi dei produttori di alimenti. Il lavoro di igiene alimentare comporta la definizione di standard per l'igiene nelle strutture in cui le persone fabbricano e gestiscono il cibo. Le agenzie sanitarie locali locali sono responsabili dell'applicazione di queste norme, ispezionando le strutture alimentari e emettendo avvisi o disdette di arresto, a seconda dei casi. Gli standard di sicurezza alimentare sono costantemente in miglioramento e l'Agenzia per gli Standard Alimentari lavora per mantenere le politiche del Regno Unito coerenti con le attuali riflessioni sulla sicurezza alimentare. L'etichettatura e l'imballaggio, comprese le informazioni nutrizionali, le indicazioni sulla salute e le attestazioni di origine, rientrano anch'esse nell'Agenzia degli Standard Alimentari. Può valutare l'etichettatura per accertarsi che rientri nella legge e conduca anche indagini su cibi etichettati erroneamente. Questo aspetto della protezione del consumatore promuove la fiducia assicurando agli acquirenti di prodotti alimentari che l'Agenzia indaga e corregge informazioni false o errate sulle etichette. Inoltre, considera temi come le leggi sui paesi di origine nell'Unione Europea, come etichette per alimenti artigianali che soddisfano standard molto specifici. I membri del pubblico possono commentare cambiamenti proposti nelle politiche e esprimere preoccupazioni all'Agenzia. Tiene riunioni pubbliche e pubblica richieste di commenti su base regolare. Una parte del lavoro dell'Agenzia consiste nell'operare pubblicamente il più possibile in modo che i membri del pubblico possano vedere come e perché l'organizzazione prende decisioni politiche.